Il segno dello scorpione, luna opposta, è una luna un po' peperina questa che transita nel segno del toro perché vi rende particolarmente permalosi e suscettibili, quindi qualsiasi cosa vi venga detta e qualsiasi critica vi venga mossa voi la prenderete male e questo significa discussioni interminabili con le persone che vi circondano, con i vostri familiari, con il vostro partner, sul lavoro, in famiglia insomma bisognerà prendervi un po' con le pinze, con le molle amici dello scorpione perché in questa giornata sarete particolarmente velenosi col vostro aculeo, con il vostro pungiglione siete pronti a ferire quello